Nessuno amara sorpresa sotto l'albero per i contribuenti sardi. Zero cartelle, infatti, il nome dell'operazione di Equitalia che prevede la sospensione in Sardegna dalla notifica di quasi 19.000 atti nel periodo natalizio. Lo stop alle cartelle è il provvedimento assunto dall'amministratore delegato dell'Agenzia di Discussione, Ernesto Maria Ruffini, che consentirà a migliaia di contribuenti sardi di non avere brutte sorprese, almeno fino alla Befana. Dal 24 dicembre all'8 gennaio 2017 era previsto l'invio di oltre 22.000 cartelle e avvisi, ma per quelli che dovranno ricevere atti, cosiddetti inderogabili, nessun time out. Sono oltre 4.000, infatti, quelli che, nonostante il Natale, si troveranno notificata dalla loro cartella. Non è e non può essere, spiega Equitalia, un blocco totale in quanto gli atti inderogabili saranno comunque notificati anche durante queste due settimane, in buona parte attraverso la posta elettronica certificata. In particolare a Cagliari saranno sospesi 8.804 atti e inviati circa 1.800. Dopo Cagliari e Sassari, la provincia col maggior numero di atti congelati, 7.646, seguita da Nuoro, 2.045, oristano con 244 cartelle, avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito che non verranno notificati nelle due settimane natalizie. La Sardegna, nella classifica nazionale, si colloca all'ottavo posto per numero di cartelle sospese, al primo posto la Campania, con oltre 57.000 atti. È un time out, una sospensione, sottolinea la Di Ruffini, che rientra nel quadro di riforma di un sistema di riscossione che deve essere più dalla parte dei cittadini e non contro. I progetti messi in campo nei 18 mesi della mia guida e col nuovo consiglio di amministrazione dimostrano con i numeri che era stata intrapresa la strada giusta e che si può fare la riscossione e il recupero dell'evasione anche stringendo un patto di fiducia con imprese e cittadini. Una tregua natalizia, un time out per i contribuenti che potranno rimandare le notti insonni a dopo la Befana.